Eccoci con Elena che ci ha svelato il segreto dei suoi capelli che però non ve lo dico, mi aveva spiegato lo shampoo che usa, non preoccupatevi, non è pantenne. Allora, cosa pensa una donna quando un uomo la contatta sui social? Questa è una scena di vita quotidiana soprattutto per i grandi utilizzatori di Instagram, Facebook eccetera 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 che sono sempre lì a smanettare. E quindi durante il giorno vedono un profilo di una donna vistosa, vedono il profilo di quell'altra che mette la foto vedo non vedo, la foto o se, la storia o se, eccetera eccetera, mi inizi a contattare, ok? Anche ti contattano anche te? Anch'io ce le ho delle foto un po' particolari. Io non le ho guardate. Quindi siamo sempre... Spendo poco tempo sui social in realtà. Ok, anzi però... Per giustificarsi. Dovremmo vedere, dovremmo vedere. Ma c'è il cellulare qua? Sì, sì ce l'ho però. Non le ho guardiamo. Ok, le ho fatto un po' particolari. Dopo le vado a guardare e vi dico la prossima puntata. Allora, che cosa pensi quando un uomo ad esempio ti risponde di una stories dove attiravi l'attenzione? Allora, dipende come. Perché ci sono persone, uomini, che sono troppo maleducati. All'occhio di una donna, anche se tu stia postando una foto veramente abbastanza spinta, ma non è il modo giusto di approcciare una sconosciuta. Tu devi sempre pensare che questa ragazza è una sconosciuta e non ti conosce. Magari poi spesso e volentieri sono profili anche abbastanza vuoti. Approcciano così, non capisco. Comunque, aperti questa parentesi. Approcciano in un modo volgarissimo. E a quale donna potrebbe piacere risponderti anche? Ma è assurdo. Non è che perché una donna si mostra il suo corpo, allora vuole darla ai suoi follower. Cioè, non capisco. Un pezzettino a testa. Non capisco. Poi, magari uno dice, però non mi risponde. Ma pensi se dovessimo rispondere veramente e andare con tutti. È quello che dico sempre anch'io. Cioè, che si trasformerebbe in un lavoro. O meglio, già è una sorta di lavoro selezionale. Perché non sono talmente tanti che sanno di dove metterli. Ma anche se fossero due o tre. Immagina che comunque non puoi dare retta comunque sempre a... Una persona può esserci due con cui ti puoi sentire, ma non un tremila. E poi non con questo modo. Io dico ai miei ragazzi che già con tre persone con cui tu ti senti sei al limite. È tanto, sì, decisamente. E poi comunque, ripeto, l'approccio così volgare... Ma chi sei? Allora, per il resto, invece, secondo me, gli approcci quelli più... Che io infatti non capisco anche lì. Magari loro approcciano con un semplice ciao. Che non c'è niente di male, per carità. Però appunto, sempre quello discorso. Una donna riceve tanti messaggi. Per questo io devo rispondere ciao, ciao, ciao a te e divento scema. Fai un broadcast e manda ciao a tutti? Ma non è per... Poi sai, ma se la tirano... No, è che se te vuoi comunque date queste attenzioni, bene, per carità, anzi, penso che molte donne in realtà siano anche contente. Però se tu non offri un discorso interessante o comunque un appiglio per parlare, cioè io non ti posso rispondere ciao, ciao e poi di cosa parliamo, basta. Ok, quindi già arrivare con un argomento. Secondo me i migliori approcci sui social sono sempre magari rispondere alla storia con qualcosa di sensato, con... non so, con argomento. Però quando lui ti scrive tu pensi che questo qua ci vuoi provare? No, perché allora dipende. Se io posto qualcosa che magari è qualcosa che mi piace, per dire io oggi ho postato una foto della BMW e uno mi commenta, inizia a parlare di auto. Non penso che ci voglia provare per forza, penso... magari sì anche, però penso... vabbè, si parla di qualcosa che piace a entrambi, perché no? Però se io posto una foto dove magari sono mezza nuda, poi io anche lì è ma è colpa tua, vabbè. E posto no questa foto e qui tu mi rispondi in maniera mai educata oppure è quando ci vediamo per fare, cioè... E' ovvio che le cose nascono piano piano, non è che le persone... Si lasciano andare così. Siamo conigli, quindi... Un minimo di... Di tatto. Penso che anche dal vivo non è che tu vai delle sconosceterie o trombiano, cioè non credo. No, no, no. Ma non penso che nessuno lo faccia. Perché sui social sì? Eh, perché il livello di intelligenza è molto più basso. Cioè, se ti faccio quello... Perché sui social sì? Che cavolo vuol dire? Non vuol dire niente. Invece se tu cerchi un argomento o, che ne sa, visto che questa persona, che ne sa, fa uno sport particolare e tu cominci a parlare di quello, secondo me ti rimucia più attenzione. Poi fai vedere che ti sta interessando la persona e non solo a quello che c'è fuori, che secondo me è una cosa molto bella. Perché tu mi scrivi, sei bellissima, che bella è, però cioè io dico, sì, ok, ma fondamentalmente di me non ti ne frega niente perché ti devo rispondere. Se poi alla fine tu vedi solo quello. Per te sono un oggetto alla fine. Perché ti devo rispondere quando magari non sai neanche come mi chiamano, se niente, iniziano a scrivere i poemi così però non sanno niente di te. Possiamo dire che per avere una conversazione con te la cosa migliore appunto è arrivare sotto i radar? Sì, ma io penso che con qualsiasi ragazza alla fine, con il 90% delle ragazze non può iniziare una conversazione. Ma anche con il ciao banale educato, per quanto possa essere giusto, non è interessante. E quindi no, non va bene. Va bene qualcosa che invece è stimolante, che porta appunto alla stimolazione di un argomento. Ok, e quando pensi che la persona sia un morto di patata, oltre a caso che hai appena descritto, che arriva già con proposte, diciamo, spinte? Allora io devo dire, sono un po' stalker, cioè nel limite, però un po' guardo i profili delle persone che mi scrivono. E quindi mi immagino uno che magari segue mille donne tutte nude. Perché in realtà non c'è niente di male, anche io le seguo, però già mi faccio un'idea della persona che sei. Ma non per forza brutta, perché ci stanno, ti piace. Però già mi inizio a vedere mille donne nude e magari tu sempre nei commenti che scrivi cose. Già capisco che tipo... E poi l'approccio appunto, questo approccio così, sempre fisico, che comunque poi non ti chiedono niente, capito? Non è che dicono, boh, di dove... Cioè magari sì, però non ti chiedono nient'altro, cosa fai nella vita, niente. Non ti chiedono niente, ti arrivano, eh, così usciamo. Ma magari io sono una psicopatica per quanto non puoi sapere tu e... Boh, però non mi chiedi niente. E invece sei una ragazza che a fronte i topic impegnativi. Ma no, ma non è solo quello. Dico, cavolo, tu non ti interessi niente a me, poi magari sono gli stessi che ti scrivono, ma io sono veramente interessato, veramente mi piaci. No, ma veramente non puoi capire, però poi non sanno niente della tua vita. Come è possibile? Giusto. Ok, ragazzi, devo dire che stavolta Elena mi ha colpito, mi stavo divertendo a fare questa chiacchierata e niente, quasi quasi, adesso un pomeriggio ci troviamo, una tazza di tè e continuiamo questa conversazione. Mi raccomando, argomenti, non ciao, di dove sei, cosa fai. Esatto, no, ho preparato una lista di argomenti, guarda, non ho problemi, di creatività. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, qui da Cristian, Elena, segrete i suoi capelli e tutto. Alla prossima.